Ok, penso che siamo a posto, abbiamo tutto, dovremo avere tutto, Giulia tu hai tutto, lo zainetto lo lasci qua, cosa fai? Lo lasci qua? Ok, lo lasci qua, perfetto. Quindi ragazzi, salve a tutti, siamo qui con un nuovo video in questo video e continueremo a stare sulla mod della vita reale. Nello scorso episodio purtroppo ragazzi è successa una cosa veramente brutta, Anna se n'è andata. Anna ci ha lasciati con Giulia, Kobe, Andreas e tutti quanti ed è una situazione piuttosto brutta. E mi trovo in questo momento ad avere tre figli e non sapere bene come gestirli oltre al lavoro e tutto quello che faceva Anna ragazzi, tutto quello che faceva Anna che ci ovviamente era essenziale per la famiglia, per continuare a vivere. Ah, da quello che ho capito ragazzi Anna è andata da sua madre, dai suoi genitori, non ricordo chi sia andata precisamente ma è andata dalla sua famiglia. E quindi noi ragazzi siamo rimasti da soli con i figli, oggi vorrei fare qualcosa di bello, non solamente per me stesso, però anche per Giulia e i nostri figli che sono un po' sconvolti in questo momento. Quindi Giulia sei a posto? Possiamo andare? Sei pronta? Lo so che non vedi l'ora, guardate come gira, mi gira intorno, mi gira intorno. È una trotterellora ragazzi, lei gioca tutto il giorno, tutti i giorni ed è una cosa veramente molto molto bella. Andiamo qua nel garage perché abbiamo questa bellissima RS6 di un cliente che come vedete l'ha vrappata cromata. Cioè rendetevi conto un RS6 del 2020, 2021, quel che è, cromata, cioè è una figata pazzesca, finestrini completamente oscurati, impianto frenante in carbon ceramica, guardate che bella. In ogni caso saliamo a bordo ragazzi, Giulia dove sei? Vieni salta su, salta su, guardate anche gli interni. Scusatemi se veramente ne parlo così ma è tutto Giulia, aspettate un attimo che tiro fuori la macchina dal garage, aspetta un secondo eh, aspetta un secondo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, dai vieni qua, salta su, salta su vai. Dai che non vedi l'ora, lo so che non vedi l'ora. Che figata ragazzi, oggi andremo in un posto bellissimo, so che servirebbe il seggiolino per lei ragazzi ma purtroppo non ho il seggiolino. Su questa macchina non ho il seggiolino quindi andiamo piano e cerchiamo di non fare troppo casino ok? Quindi ragazzi che cosa dobbiamo fare? Oggi andremo al parco giochi con lei. Ma non al parco giochi normali, in parco giochi di quelli di non so da parco o piazzettina. No, andremo in un vero parco di divertimenti, stile ragazzi, Disneyland o qualcosa del genere, vedrete, le piacerà un botto, veramente tantissimo. In ogni caso ragazzi, io che cosa faccio adesso con Anna? So che voi volete parlare di me e Anna e sono d'accordo con voi, è una cosa che dobbiamo discutere insieme. Ho bisogno dei vostri commenti, ho bisogno dei vostri like ragazzi, lasciatelo mi raccomando per capire che cosa dobbiamo fare perché la mia intenzione qual era ragazzi? La mia intenzione anche grazie a qualcuno di voi che mi ha scritto su Instagram e lo ringrazio di cuore ragazzi, seguitemi su Instagram se volete anche darmi consigli. Il commento suo riguardava il fatto che dovremmo fare qualcosa di speciale per Anna. Dovremmo o cantarle una canzone, la sua canzone preferita, oppure ragazzi portarla in qualche posto, portarle qualcosa più che portarle in qualche posto perché dubito che al momento Anna sia disponibile ad essere portata da qualche parte. Quindi dobbiamo presentarci da lei con qualcosa che lei faccia, le faccia capire per quale motivo si è innamorata di noi. Quindi non so perché continua a mettere le frecce dall'agitazione probabilmente e ragazzi è una cosa molto importante. Anna, cioè anche se se n'è andata non significa che ci ha lasciato, se n'è andata per avere una pausa. Se n'è andata probabilmente per riflettere. Questo è un momento critico nella nostra relazione in cui potremo perderla per sempre. Quindi dobbiamo fare le mosse giuste ragazzi e non le posso far da solo sinceramente. Wow, guardate sto tipo con la Ferrari che sta facendo benzina qua. Che figata, veramente bello. Guardate, è appena partito quasi in bomba con questa Ferrari nera che sono anche rare da vedere Ferrari nere, vero? Quindi ragazzi io so che volete risposte su Anna e le voglio anch'io le risposte su Anna sinceramente. Però non è così facile ovviamente, quindi dovete darmi il tempo. Il tempo di riflettere e pensare a un qualcosa che possiamo fare per lei che sicuramente ne varrà la pena. Che sicuramente riuscirà a riconquistarla di nuovo perché è questo che dobbiamo fare adesso ragazzi. In ogni caso ci siamo ragazzi, guardate che cosa c'è lì davanti. Cioè non so ragazzi se riuscite a vedere che figata c'è lì davanti. Wow, ragazzi lo hanno aperto allo Santos da poco e dovevo per forza portarci Giulia perché, oh mio Dio ragazzi, guardate che ben di Dio. È pazzesco, guardate che roba ragazzi, non ci credo, non ci credo. Era proprio ciò di cui avevamo bisogno ragazzi, venire con Giulia qua. Oh mio Dio, questo è il più bel parco divertimenti che abbia mai visto ragazzi, appena aperto, nuovo di zecca. Oh, ok allora vediamo di parcheggiare l'auto qua da qualche parte, non ho ben capito. Ah, si entra da lì, vedete c'è scritto parcheggio qui. Che poi ragazzi questa strana auto cromata qua, guardate che roba. Cioè adesso è veramente, ah ma io passo sopra le wall e così? O mi sa che ho sbagliato qualcosa ragazzi, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Vabbè noi passiamo qua sopra dai. A parte che guardate le macchinine che ci sono qua, niente male eh, guardate che roba. Bellissima, bellissima, bellissima. Ok, parcheggiamola, mettiamola vicino all'Alfa Romeo, che ne dite? Wow, ragazzi che figo. Scendiamo, scendi, ce la fai? Ci sei? Sei riuscita? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dai guarda che figata. Oh mio Dio ragazzi, no veramente sto male, guardate che roba su GTA 5 ragazzi, è una cosa incredibile. Ok, non vedo l'ora di farvi vedere il parco all'interno perché veramente, veramente è troppo bello. Giulia, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, 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 non dartene via Giulia. Aspettate che sei impazzita. Giulia, Giulia, cosa corri via? Giulia aspetta, 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 rimani qua un attimo solo e dobbiamo entrare a fare i biglietti. Aspetta un attimo. Allora, innanzitutto vediamo un secondo dove dobbiamo andare a fare i biglietti. Wow. No raga, io mi sa che questo video è tutto un wow perché veramente ci rimango malissimo. Cioè, a me piacciono tantissimo queste cose e incredibilmente qua è una cosa pazzesca. Allora, come vedete qua ci sono i tornelli e ci sono i venditori. Salve, salve. Ah, qua fa... Ah no, qua sono le foto. Ok, vediamo se riusciamo a... Oh, 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 oh. Ah, ok, biglietti, comprali qua, perfetto. Qua si possono comprare i biglietti. Ah, vediamo un attimo. Salve. C'è nessuno, non c'è ancora nessuno. Aspettiamo un attimo. Ah, eccola qua ragazzi, perfetto. Giulia, intanto se n'è già andata. Aspetti, è una bambina molto vivace. Sì, è laggiù, la vede, è un po' vivace in effetti. Comunque, le stavo dicendo. Ha due biglietti, uno per una bambina a otto anni e uno per me che... Niente, ne ho un po' troppi. Quindi un adulto e un ridotto, per favore. Grazie mille, grazie mille. Intanto vado a raccattare Giulia. Un attimo, mi scusi, eh. Vieni qua Giulia, so che ti piacciono le macchine. Guarda, c'è una bellissima Lamborghini e una TT. Lo so, è bellissima, incredibile. Però vieni qua, vieni qua. Dai Giulia, che fine, che fai? Già, vieni qua. Oh, so che c'è un R8 anche lì, un sacco di belle macchine. Ma dai, abbiamo preso i biglietti. Dai, non sei contenta di entrare? Non vuoi entrare? Ora che figo che è là dentro. Dai, voglio portartici, anche se è ancora abbastanza vuoto. Mi sembra, non c'è tantissima gente, ragazzi. Boh, non ne ho la più pala idea. In ogni caso, i biglietti ce l'ha la signorina adesso. Ecco fatto, signorina, ce l'ho fatta. Ok, grazie, possiamo passare? Perfetto, qua sono i tornelli per bambini. L'avete visti? Guardateli, passa anche Giulia. Ragazzi, benvenuti nel paese dei balocchi. Ci sono un po' di cartelli che ci indicano quello che possiamo fare. C'è anche il caddy, vedete? Il golf car messo a disposizione. In ogni caso, benvenuti nel mondo magico. A destra c'è il circo, poi c'è popcorn. A sinistra c'è lo show della magia. Va bene, vediamo un attimo. Andiamo qua sul coso principale. Probabilmente dopo avremo bisogno di qualche mezzo per spostarci. Perché penso che sia un po' eccessivo, ragazzi. Ma, oh mio Dio, ci sono le montagne russe. Qua possiamo andare sulla torre anche. Oh mio Dio, Giulia, cosa vuoi fare per prima? Ma quale attrazione vuoi fare? Oh mio Dio, laggiù, guardate! Ci sono gli scivoli! Che figo gli scivoli! È incredibile. Allora, questi sono ovviamente gli autoscontri. E fin qua va bene. Ma Giulia non è tanto tipo ad autoscontri. Quello che le interessa di certo di più sono qua i cavallucci. Vedete i cavallini qua che girano? Non so come si chiama, mi sa che... Sapete che non lo so. Sinceramente lo so solo in inglese, in italiano non lo so. Non so neanche per quale motivo. C'è di tutto e di più qua, ragazzi. La ruota panoramica. Allora, io non so sinceramente dove andare. Guardate, andiamo a destra o andiamo a sinistra? Andiamo a sinistra. Giulia, vuoi andare a sinistra? Andiamo a sinistra che mi sembra più promettente. Perché qua, ragazzi, veramente ci sono tutte le attrazioni che potete immaginare. Guardate. Purtroppo non conosco neanche il nome di una di queste attrazioni, ma... Ok. Allora, GeForce si chiama. GeForce Booster. E questo qua ti fa girare a una velocità incredibile. Che ti fa veramente sentire la forza d'accelerazione. La forza G. Veramente l'hanno aperto allo santo. Su una cosa del genere, ragazzi. Ma rendetevi conto di quanto è figo. Questi dovrebbero girare. Mi sa che sono le tazzine. Vedete che girano. Guardate che figo. Cioè, nella realtà è proprio così, ragazzi. Con queste parti di... Non lo so, in metallo. Vedete, con queste cose antiscivolo. Oddio, è uguale. È uguale identico alla realtà. Guardate, con i blocchi per chiudersi. Fichissimo. Giulia, aspetta un attimo. Dove vuoi andare? Ah, vuoi andare a quella? È veramente bella. Sì, quella dei pirati. Quella dei pirati che va su e giù. È una nave, è una barca. La vedi? Che bello, ragazzi. Che bello. Mi sembra di essere tornato un bambino, veramente. No, non vuoi più quella. Ok, ok. Vediamo che cos'altro c'è, ragazzi. Purtroppo è un po' spoglio di persone. Lo vedete? È talmente grande che non c'è neanche una persona, almeno per prima vista, ecco. Però è veramente bello. Ok, questa è una ruota panoramica. Poi abbiamo top speed. Uh, quello piace a me. Quello piace a me, ragazzi. Guardate, quello horror. La casa stregata. Quella piace a me. Che figo. Questo sì che mi piace. Vediamo se riusciamo a entrare dentro. Bisogna essere almeno 48 pollici. Cioè, bisogna essere alti almeno 48 pollici o accompagnati da un adulto. Ma a me sembra... Ragazzi, a me sembra enorme anche per gli adulti. Cioè, guardate dove arriva la biglietteria. Scusatemi, eh, ma a me sembra un po' troppo grande. Rest in peace. Guardate che bello. Cioè, è incredibile. Qua noi praticamente, queste sono le giostre vere e proprie. Mi sa... Oh, c'è un altro tipo qua. Ah, mi sa che è un manutentore. Non lo so. Forse non è aperta. Possiamo entrare in uno di queste. Vediamo se c'è qualcosa dentro. Lo vedete che c'è una specie di porticina qua? È una bara. No, è una bara. Che bello. No, che figo. Ok, 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 ok. Va bene. Ci vedo una ceppa. Ok. Penso non si possa entrare purtroppo dentro. Non vedo delle porte o cose del genere. Probabilmente è ancora in costruzione. Wow, guardate quello lì che si può salire sopra e ti buttano giù. Si chiama Detonator. Che figata anche i nomi. Ma il mio preferito, ragazzi, sono queste montagne russe. Questo deve essere decisamente il mio preferito. È incredibile. Questo, ragazzi, spero di farlo. Non vedo l'ora di farlo. È una roba pazzesca. Aspetta. Ok, scavalchiamo qua. Perché anche Giulia, ragazzi, l'abbiamo lasciata in uno dei suoi posti preferiti. In una delle sue attrazioni preferite. Speriamo che, insomma, non se ne vada in giro. Ecco, perché ci sono così tante cose belle qua, ragazzi, che potrebbe perdersi da un momento all'altro. Pazzesco. Veramente pazzesco. Che poi, ragazzi, io vedo solamente gente con i giubbotti. Quindi ho paura che, purtroppo, non sia ancora del tutto aperto. Perché, vedete, non c'è praticamente nessuno. Alcune sono ancora in costruzione. Magari accettano già la gente che entra, che può fare qualcosa, ma mi sa che è ancora un progetto in corso, ragazzi. Perché veramente non credo, veramente sia... Cioè, boh, non ne ho idea. Non ne ho idea. Dobbiamo aspettare degli aggiornamenti, delle nuove versioni. Perché veramente qua ha del potenziale incredibile, ragazzi. Ma purtroppo è ancora un po' troppo presto. No, ok. No, no, no. Non si può. Non si può. Non si può. Non si può. Guardate che roba. Anche qua, se io volessi andare su... Eh, niente. Ci passo attraverso. Peccato, ragazzi. Peccato davvero. Allora, facciamo una cosa. Io adesso torno alla biglietteria all'inizio. Prendo un bel caddy e ci facciamo un bellissimo giro di tutta la zona. Che ne dite? Meglio che andare a piedi, che se no ci mettiamo tre ore. Perfetto. Eccoci qua, ragazzi. Prendiamone uno dei due. Ah, eccola la macchinina dei popcorn. Guardate, macchinina, insomma. Il coso dei popcorn. Allora. Uh, qua c'è una torre. Vediamo se si può salire sopra. Ma mi sa di no, eh. Mi sa che queste cose ancora, purtroppo, sono in sviluppo. Non funzionano. Vediamo un secondo. Sì, questa funziona, forse. Anche se non capisco bene come salirci sopra, dato che i gradini sono così grandi che... Veramente. Cioè, questo è un parco divertimenti per adulti, ragazzi. Perché è tutto talmente così grande che veramente sembra che siamo tornati bambini, ragazzi. Quando le robe erano enormi. Cioè, veramente. Io ho questa impressione. Voi? Perché veramente siamo quasi sopra. Eccoci qua. Attenzione. Oh, oh. Bene. Guardate che figo. Qua si vede, ragazzi, praticamente... Ah, ma è uno scivolo. Una specie di scivolo, forse. Da qua si vede praticamente tutto il parco da sopra. Purtroppo anche i finestrini hanno un po' qualche problema. Guardate, sono un po' sporchi. Vanno puliti. Li hanno appena portati, probabilmente. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Spero che lo migliorino, ragazzi. Spero che lo completino, lo migliorino. Perché, guardate, ha veramente del potenziale. Grosso potenziale. Se solo ci fossero più, eh... Non lo so, giochi disponibili. Ok? Che si possono veramente usare. E più cose del genere. Sarebbe, probabilmente, quello definitivo. Sarebbe il parco divertimenti definitivo. Comunque, torniamo giù, ragazzi. Vediamo di non farci male. Anche perché da qua, non so, ho paura che la gente si butti, sinceramente. Quindi non saprei. Anche questo dovranno mettere delle sicurezze. Eccoci qua. Anche perché ho paura io da genitore per Giulia che si butta o qualcosa del genere. Quindi non si sa mai. Bisogna sempre avere le precauzioni. Vorrei vedere un po' in fondo al parco qua, se c'è qualcosa. Di più interessante. Non curvano neanche tanto queste cose. Uh, aspettate. Lì c'è un bellissimo scivolo. Avete visto? Proviamo a vedere un attimo se posso salire sopra. Non penso ci sia l'acqua, sinceramente. Qui, 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 qui. Wow! Ok. Si può entrare, si può entrare, si può entrare. Vediamo se riesco a fare le scale, però. Vi prego. Voglio scivolare da qua, vi prego. Ditemi che questa funziona per... No! Non ci credo, no. Questa veramente ci sono rimasto male, ragazzi. Vediamo se almeno lo scivolo ho proprio casco dallo scivolo. Oh! No! Posso salirlo così? Come quei bambini che si creano fighi. Posso salire così? Oh! 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 Posso scendere? Sì! 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 Ok! 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 Sicuramente non saprei bene come fare. Eh, aspettate, provo una cosa. Ok, vai, 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 va, 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 vai, o, ops, 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 aspettate, riproviamoci, 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 ripro... Ah! Ok, no, di fatto, volevo andarci di... di pancia perché secondo me era meglio ma mi sa proprio di no. Eh, ragazzi, purtroppo... Cioè, siamo troppo grandi per... Eh, niente, niente, ccado di faccia, è duro, non è proprio la cosa giusta da fare. Vabbè, peccato, peccato, peccato. Comunque ragazzi sembra che vogliano sistemarlo Con questo parco Mettendoci non solo le persone ma anche Le attrazioni funzionanti Quindi è veramente una cosa molto ambiziosa Io spero che ce la facciano perché allo santo sarebbe Molto opportuno avere un parco del genere Non c'è un posto in cui io possa portare Giulia Ok facciamo un'inversione che qua non c'è niente Bello così insomma Non c'è un posto in cui possa portarla Veramente non c'è nulla per bambini quasi A parte il parco dei cagnolini Allora vediamo un attimo se la individuiamo Dovrebbe essere qua dei pirati Spero che non se ne sia andata Ok oh è là è là è là è là Ok 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 Giulia Aspettate che dobbiamo salire qua ai gradoni Ecco qua Giulia vieni qua Giulia ehi sono qui come un po' ti sei divertita Almeno poco poco eh Eh lo so è un po' è un po' così È da sistemare però dai non è male Volevo portarti in un posto bello Insomma come come non lo so Come giornata padre figlia Perché veramente ne vale la pena guardate si è seduta davanti Non ci credo guardate com'è seduta eh Non la vediamo in prima persona Guardate com'è seduta Non ci credo è bellissima È proprio la raffigurazione di una giornata padre figlia Allora noi ragazzi togliamo il disturbo Anche perché si sta facendo abbastanza tardi Dobbiamo tornare a casa E purtroppo devo pensare non solamente al lavoro Ma anche ad Anna e tutto quello che rappresenta Quindi insomma è un po' complicato ragazzi Ho bisogno del vostro aiuto probabilmente Questo cosa vuole qua adesso? Cos'è? Del poliziotto? Ah no forse è del parco Ok forse è del parco E come vedete stanno sistemando un po' Uh hanno rimesso un altro C'è anche il tipo di popcorn È appena arrivato Guardate che figo Ok va bene Allora lasciamolo qua Spero non sia un problema se lo lasciamo qua E Giulia vieni vieni qua Vieni qua dai che Torniamo in macchina dai Torniamo in macchina Ok io ragazzi Direi che Terminiamo qua Questo episodio Quindi Attenzione un attimo che Quello all'interno del parco È ancora un po' troppo presto Vedete qua ci sono degli Degli artisti di strada Probabilmente qualcuno verrà mano mano Comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Lo ste Ho sbagliato tasto Ho sbagliato Aspettate Uh ci sono anche i clown Hanno aggiunto anche i clown Guardate che figo Comunque ragazzi io spero Che questo video vi sia piaciuto lo stesso Lasciate un like se è stato di vostro gradimento Iscrivetevi per nuovi episodi Su alle speedfr Vita reale E tantissime altre serie Appunto quella della rapina Eccetera eccetera In descrizione c'è il link del mio twitch Mi chiamo super gaspile Esattamente come su youtube ragazzi Seguitemi lì Mi raccomando Potete abbonarvi gratis Io farò una live ogni lunedì mercoledì e venerdì Per iniziare appunto alle 20 Poi non so se magari cambierà la situazione Ma per ora è per le 20 Seguitemi su instagram ragazzi In cui appunto c'è il link Che vi devo dare io manualmente Ma c'è di gta 5 per telefono GTA 5 mobile Che conoscete benissimo E infine ragazzi niente Io ogni mese faccio un giveaway su instant gaming Quindi se volete potete scegliere il gioco Che vorreste ricevere ogni mese Sotto in descrizione E uno di voi lo riceverà Insomma quindi grazie a tutti ragazzi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.